salve a tutti e tutti voi volevo fare un video sin dall'inizio mentre pranzavo invece ho già iniziato a pranzare ieri ho fatto ho caricato due video spero vi siano piaciuti qua sto finendo di mangiare una settina di porco come potete vedere e qua mi sono riscaldato che tutte e due sono cose di ieri una minestra di riso e verdura al pollo il pollo l'ho finito ieri i pezzetti di pollo e intanto è rimasto il riso che ho riscaldato il brodo di riso con la verdura e questo era il maiale era perché adesso già lo finisco non mi posso filmare con una mano mentre mangio perché devo tagliare vabbè allora ho fatto questo breve ricordatorio intanto che il mio cagnolino piange e picchia la porta e c'entra e c'entra veramente una grande scocciatura il saluto a tutte e tutti voi buona serata perché quando caricherò il video di questo pranzo lo carico il premier sarà probabilmente sera allora un grande saluto dal vostro sante gian che fa uno spuntino così a pranzo coi resti della cena e mi raccomando se qualche mio video vi piace commentatelo sotto mettetelo nella vostra community e condividetelo a quante persone più potete in modo che anche altri possano commentarlo e poi spero di arrivare a mille video poi chissà che cosa succederà perché da molto tempo voglio caricare dei video in inglese soltanto che devo perfezionarli in quel idioma un saluto a tutti ciao ci vediamo mi filmo in questo pasto frugale e questo pranzo frugale ciao ciao sto porco come buono questa bella minestra pisellini verdura risso oggi non gli ho messo olio io formaggio niente mi sto sto ciao